Questo derby d'Italia è diventato uno dei derby più seguiti d'Italia, anche uno dei più turdi d'Italia. Dallo Stadio Olimpico in Torino, Juventus Inter. Suggerimento interno, la finta di Pazzini, splendida per Slider. Pazzini ancora dare il rigore, contrato. C'è l'inizio dal fondo con Pazzini che si arrabbia. Prova a girarci, Toni va via, grande giocata ancora, Toni lo mette dentro, Matri, chiuso da Cordoba, protesta la Juventus. Attenzione ad Aquilani che cerca il pallonezzo su Giulio Cesar. Krasic va uno contro uno su Saniti, cerca lo spunto ancora Krasic, ecco lo giocatore in seno in appoggio, prova a trossarla, bellissima! Alessandro! Matri! 1-0! Arriva il traversone di Michael, bellissimo, Pazzini con la respinta di Buffon. Krasic prova a partire, ecco il traversone per... Matri che la mente fuori veramente di niente. Aquilani, a memoria, dentro per Matri che controlla, Matri in avanti di rigore, Michael recupera la grande. La versione di Michael è buono, mette fuori Sorensen, arriva Schneider, ha colpito Pandev. Attenzione a Sorensen che è da palla, Eto'o Buffon, ci mette una pezza. Eto'o, ma rimane a Gatomo con un fulgine a sinistra, Eto'o strutta il movimento, passa di nuovo da Schneider, grande controllo, dentro per Eto'o, Eto'o controlla, Buffon! E' uno contro uno, piede in area di rigore, arriva attraversone, Matri! Si allunga dopo il pallone, perde una pallaccia, allora Michael, pronto attraversone, basso, arriva, Eto'o attraversa, poi Pazzini, clave resa, attraversa di Eto'o. Schneider va per line interne, poi cerca il pallone per Eto'o, che lo controlla ancora, discio di Eto'o! 1-0 per la Juventus!